Ultima occasione, Llorente, il cross a centrale, De Vrij ancora svetta, la mette giù Sanchez, finisce qui, finisce qui, Inter batte, il gol di Arnautovic decide questa partita, è stata una battaglia lunghissima e l'Inter la porta a casa, meritatamente, in una partita con tante anime dentro, con tanti momenti diversi, la spunta l'Inter con un gol di Marco Arnautovic, proprio lui che si era tirato, tante critiche dopo aver sbagliato in un paio di occasioni, una soprattutto molto grande, la chiude lui però, il primo atto di questi ottavi di finale di Champions League va all'Inter, 1-0, risultato finale, il gol di Arnautovic al 70%, novesimo minuto, un'altra partita senza subire gol, una vittoria di misura con un Inter che avrebbe potuto vincere, con un risultato ancora più ampio Simo, perché di occasioni ce ne sono state, è stata sì davvero una battaglia con la partita che poteva anche indirizzarsi in maniera diversa, dopo l'infortunio di Turam soprattutto, e invece ci siamo portati in una situazione perfetta, di vantaggio, con la possibilità di andare poi a giocare a casa loro in una situazione di vantaggio, li possiamo costringere a scoprirsi, abbiamo visto comunque nel finale che se si scoprono possiamo fare davvero male a questa retroguardia, a questa squadra, e tante cose buone sicuramente in questa partita, Simo, molto 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 soddisfatto, due risultati su tre, adesso a disposizione al ritorno, lo ricordiamo, i cambi hanno inevitabilmente fatto la differenza, però dimmi un po' la tua su questa gara. La sintesi migliore è quella che hai fatto prima, è stata una battaglia, vera e propria, ed è un'altra partita che si sviluppa in maniera particolare, e che nonostante tutto, nonostante tutte le difficoltà, l'Inter riesce a vincere. Anche quando il livello si è alzato, e l'abbiamo visto soprattutto in un primo tempo, dove l'Atletico ha risposto colpo su colpo alle nostre giocate, si è percepito in maniera chiara che questa non era la Serie A. Nemmeno la Juventus ci ha dato, che è la seconda forza in questo momento, ci ha dato queste difficoltà, anche in termini fisici, di impatto proprio, come ha fatto l'Atletico. E nonostante questo abbiamo resistito, abbiamo gestito bene i momenti difficili, e poi alla fine l'abbiamo portata a casa con il cuore. E io credo anche con la convinzione, non ero così sicuro di questo, però devo dire che a posteriori avevano ragione quelli che anche in chat ci dicevano vedo un Inter un po' troppo timorosa nei confronti di questo Atletico, e io credo che in parte fosse davvero così. Sicuramente è stato decisivo l'ingresso in campo di quelli che sono entrati, non solo Arnautovic che fa gol, ma Dumfries fa un ingresso mostruoso, Carlos Augusto anche. E quindi questo sicuramente è stato importante, però io ho proprio percepito, soprattutto da metà ripresa in poi, una voglia, una convinzione di andare a trovare il gol che poi quest'anno spesso ci porta a farlo, perché siamo forti e perché quando c'è San Siro che spinge il gol lo troviamo. E infatti a un certo punto, ho bisbigliato in cronaca, finisce come Interporto, perché mi ricordava proprio quell'ambiente lì, quella voglia, dai che arriva, dai che arriva, e alla fine è arrivato. E per fortuna l'ha messo, Marcone Arnautovic. Sono contento. Hai detto due cose giustissime, Simo, che condivido anch'io. Il primo tempo un po' di tensione, forse anche troppo in alcuni momenti. Il secondo tempo l'Inter è entrata in campo con una faccia diversa, la si vedeva secondo me, qualcosa in più si è visto a quel punto di vista. L'ingresso di Dumfries sicuramente ha cambiato la gara anche di Carlos Augusto. Tra poco ne parliamo. Simo, però questa partita purtroppo, devo dire, è un'altra vittoria dell'Inter che però non va a cambiare le nostre fanta azioni su Sport X Market. Questo gioco gratuito, dove totalmente gratis, non si paga nulla, ma si vincono premi reali ogni mese e anche a fine stagione. Contano soltanto i risultati del campionato, però stiamo facendo comunque abbastanza bene. Questo è Sport X Market. La sfortuna di Arnautovic non è stata in campo, è stata qui, che il suo gol non ci porta a migliorare. No, però è vero, comunque stiamo continuando a guadagnare posizioni in classifica, anche perché ultimamente abbiamo azzeccato alcune scelte con le fanta azioni delle ultime settimane. Qualche tempo fa, un po' nell'ombra, abbiamo preso le azioni del Lione, che era un po' in difficoltà. Adesso però arrivo da tre vittorie consecutive in Ligan, sta facendo bene e quindi dai, per ora la situazione sta migliorando. E quindi stiamo facendo bene. Adesso mi farò anche un giro sul mercato. Simo, ho visto che ci sono varie quotazioni molto interessanti. Un buyer Leverkusen, sai che faccio due fantazioni del buyer Leverkusen e me le prendo subito per andare ad arricchire ulteriormente il nostro portafoglio nel mercato e poi dopo andremo a vedere la classifica e la aggiorneremo. Comunque, Sport X Market, trovate il link in chat per chi ci sta seguendo in diretta, per iscrivervi gratis. Chi ci segue in differita e in podcast trovate il link in descrizione per partecipare e competere anche con noi se volete superarci, mi raccomando. Torniamo, Simo, alla partita. Devo dire, sono rimasto un po', non dico perplesso, comunque poco soddisfatto dalla prestazione di alcuni singoli, soprattutto. Diciamo che il centrocampo dell'Inter è quello che fa girare meglio la squadra, è quello che tendenzialmente facciamo anche il confronto prima della partita, diciamo il nostro è superiore a quello dell'Atletico Madrid. Stasera ho visto un Barella in versione totale, mi è piaciuto dal primo, ti ricordi l'ho detto al quinto minuto, ho detto subito di Barella e mi è piaciuto tantissimo. Meno, Mkhitaryan, troppi errori negli ultimi metri, che da lui non te lo aspetti, e anche Cernoglu meno preciso del solito. Detto questo, l'Inter comunque stava conducendo la partita, l'infortunio di Turam è un problema perché l'Atletico Madrid in questo modo può permettersi di difendere in una maniera differente, ha meno preoccupazioni, tra virgolette, difensive, e quindi inseriscono anche Morata, da lì l'Atletico prende coraggio, si alza un po' di più, comincia a creare qualcosa, pur non creando grossi problemi alla nostra retroguardia, Inzaghi però bravissimo a vedere il momento degli esterni, Darmian evidentemente dall'inizio non stava facendo bene, anche Di Marco un po' appannato secondo me, sostituisce gli esterni, Dunfris subito investe sulla fascia Samuel Lino, Carlos Augusto a quest'altra parte è entrato in maniera molto molto intelligente, e lì c'è stato il primo click, la prima svolta. Quindi partita che ha vissuto varie fasi in cui il risultato comunque direi premia giustamente l'Inter. Sì, anche perché leggevo prima le statistiche, in tutto questo Atletico Madrid numero tiri in porta zero nei confronti di Somme, ha avuto due occasioni con due tiri di questo Samuel Lino, che secondo me è stato il migliore in fase offensiva, però tiri in porta zero nonostante tutto. La sintesi è quella che dicevo prima, secondo me, nella ripresa entra un'altra Inter e con il passare dei minuti si percepisce proprio una crescita, una sorta di termometro che alza sempre di qualcosina la temperatura fino ad arrivare al massimo, che è il momento del gol. Un ulteriore stacco, come hai detto bene, arriva quando cambia gli esterni, che secondo me sono i migliori in campo per il tipo di approccio che hanno avuto, ed è una vittoria meritata. Forse potevamo anche fare qualcosina di più, magari un gollettino in più potevamo farlo, però insomma affrontavamo una squadra di alto livello e comunque l'Inter ha tenuto testa ad una squadra di alto livello, che quest'anno sta facendo bene, ma che soprattutto è abituata a questi palcoscenici da tanti, tanti anni. Ha fatto due finali, ormai un bel po' di tempo fa, però comunque con lo stesso progetto, con Simeone in panchina. Io, per quanto oggi l'Inter abbia uno status di un certo tipo, non riesco comunque a dare per scontato partite così e notti così, quindi sono anche molto contento. Poi, come ho detto nel pre-partita, l'1-0 forse sposta pochino, anche perché loro al Vanda Metropolitano credo che potranno contare su un ambiente da oro mai più, tra virgolette, e quindi un po' il piccolo vantaggio si ridurrà, però intanto meglio arrivare col 1-0 o con lo 0-0, banalmente. Guarda, ringraziando tantissimo il nostro De Pica Pica, grazie di cuore, con il Forza Inter, aggiungo, stavo pensando un po' di cose. Intanto anche De Vrai mi è piaciuto tantissimo, poi dopo a parte faremo le pagelle, sicuramente ne riparleremo. Grazie mille De Pica Pica, c'era giustamente il commento del nostro Armando, grazie mille Armando, per il sostegno, dice per voi, pesa di più il gol segnato o quelli sbagliati? Allora, c'è da considerare, sicuramente l'Inter ha avuto delle ottime occasioni per segnare un altro gol, non è detto che segnando prima la partita poi sarebbe andata nello stesso modo, quindi il gioco dei sé funziona sempre in maniera molto complicata. C'è comunque da dire che venendo a mancare quella regola sul gol in trasferta, la partita di andata è come se tu avessi giocato il primo tempo di una partita di 180 minuti, per cui banalmente chiudi in vantaggio per 1-0. Io mi concentrerei soprattutto su questo, piuttosto che recriminare sui gol sbagliati, perché poi si sarebbe aperta una partita completamente diversa, fare delle previsioni sarebbe stato molto difficile. Quindi soddisfatto del gol, anche per aver azzeccato di nuovo il pronostico, ho sbagliato di soli due minuti il momento del gol, tra l'altro, perché ho detto 81, è arrivato al 79, avevo detto Frattesi, ma è stato Frattesi che ha avviato l'azione che ha portato al gol di Arnautovic, quindi ci sono andato abbastanza vicino. Ringrazio anche il nostro Franco Marelli, grazie di cuore Franco, che dice vittoria è importantissima, mi permetto di credere che ce la possiamo fare nella Bolgia del Metropolitano, dedichiamo questa vittoria a Randy Breme, grazie ragazzi e grazie Anna. No, grazie a te davvero, mitico Franco, grazie davvero per il grande supporto, ma io ci credo sì che ce la possiamo fare nella Bolgia del Metropolitano, perché abbiamo visto che questa squadra la possiamo attaccare, la possiamo aggredire, li conosciamo, speriamo non sia nulla di grave l'infortunio di Turam, che ha avuto questo problema muscolare alla fine del primo tempo e sarebbe molto importante poterlo avere da sganciare in campo aperto, magari anche lì in, diciamo, in campo aperto, in contropiede, in casa loro. E volevo dire anche un'altra cosa che però adesso mi è sfuggita, perché stavo pensando tante cose insieme, Sio, riempi tu un attimo che ci ripenso. No, stavo ricordando in tutto questo l'esultanza di Arnautovic e per tornare su questo tema, perché poi è anche sicuramente uno dei protagonisti. Intanto segna Salerno e con la serenità non è vero che è il quarto gol, quindi è anche normale che non esulti tanto, però ha quasi una reazione, non di non esultanza perché è il quarto gol, ma ha quasi una reazione come per dire oh, finalmente ce l'ho fatta, ancora con questa espressione anche di questa gestualità non positiva. Stasera scatena una rabbia quando fa gol, che adesso l'hanno inquadrato, che mi fa sperare, perché non ne ho la certezza, ma mi fa sperare che si sia davvero sbloccato. Forse non gli serviva un gol, perché ne ha già fatto uno, sia in Champions che in campionato, gli serviva questo gol, cioè un gol di questo tipo, con questo peso, arrivato in questo modo e arrivato in una partita dove peraltro ne aveva già sbagliati due. Uno non è che fosse proprio un vero errore, quello in mezzo alla rovesciata, l'altro obiettivamente sì. Quindi adesso soprattutto che probabilmente non avremo Turam, speriamo per il minor tempo possibile, ma a Lecce credo banalmente che non ci sarà, è fondamentale avere un Arnautovic integro dal punto di vista mentale, perché gli sta mancando questo, porca di quella miseria. Solo questo. Fisicamente è a posto ormai, quel problema che ha avuto a settembre lo ha smaltito, ma gli manca la serenità qui. Gli mancava, spero di poter dire. Poi a calcio sa giocare, anche oggi. È vero che sbaglia dei gol, ma un giocatore come lui, a quell'età, che sta vivendo una stagione come questa, non è banale che entri in campo a gara in corso contro l'Atletico e faccia così. C'era un partito che entrava ed era un fantasma. Non voglio ritirare in ballo Correa o anche Sanchez in alcuni casi. E invece entra in campo e comunque fa la differenza. Deve sicuramente limare questa cosa, dico sbagliati, ma è ovvio. Anche perché, non è per dire, ma anche Lautaro stasera ne sbaglia soprattutto uno dove poteva far meglio. Io non capisco l'utilità del dare addosso ad un giocatore. C'è tanti commenti del tenetevi Arnautovic. Me lo tengo, sì, ha deciso la partita. Fino a fine stagione lo sostengo. Poi dopo ne parleremo, vedremo. Tanto oggi ha fatto il gol e io lo sostengo. Grazie Blumojo, grazie davvero. Non mi ricordo l'altra cosa che volevo dire, la ridiremo a parte in un altro contenuto. Dico solo, Simo, che manca probabilmente un calcio di rigore all'Inter dove le immagini sono state fatte vedere molto di fretta e il check al VAR è stato molto corto nel primo tempo un tocco di mano del difensore dell'Atletico Madrid dove a un certo punto lui va a togliere il braccio ma prima lo mette e poi lo toglie. Quindi è molto dubbio, secondo me è stato molto rischioso. Aggiungo la provocazione, Simo, meglio che sia finito 1-0 così tu vai in casa dell'Atletico Madrid consapevole che devi giocartela spalle al muro cioè che la partita è decisiva e che non puoi abbassare per nulla il livello della tensione e il livello d'attenzione. Quindi finisco per dirti meglio l'1-0 che il 2-0 in modo che vai in campo lì super concentrato e se vai in campo super concentrato l'Inter batte questo Atletico Madrid. Quindi te la metto così. Ringraziando Blumogio grazie di cuore Blumogio ben ritrovato tra l'altro grazie per il super supporto e grazie al nostro Angelo a cortomuso possiamo far male anche al Vanna. Grazie Angelo però precisazione non è stato un cortomuso perché comunque l'Inter è anche a livello di expected goals che dicono e non dicono fatto 2-50 contro 0-35 quindi è stata una produzione di alto livello per un Inter che ha strameritato. Grazie Angelo. Simo non so se vuoi dire qualcos'altro se no vado a parte con le pagine. No mi sembra di aver visto che la UEFA ha premiato Arnautovic come MVP e quindi io godo di gusto sul discorso del punteggio concordo anche perché io do questa lettura detto che l'Inter è arrivata ad un livello di forza e consapevolezza per il quale questi discorsi lasciano un po' il tempo che trovano però se tu arrivi là col 2-0 sicuramente hai già mezzo piede nella qualificazione ma se prendi gol loro si gasano anche perché sanno che non è ancora recuperata la partita quindi secondo me lo stadio si infiamma molto di più se segna il gol del momentaneo 2-1 che non dell'1-1 nel complesso dico e allora gli rischi di essere travolto se invece arrivi con l'1-0 come hai detto tu bisognerà arrivare avendolo alla testa come se fossimo 0-0 così dovremmo giocare con il piccolo vantaggio che loro dovranno stare un filino più scoperti un filino più sbilanciati e sperando che Turam ci possa essere visto che passa circa un mese magari ci può far comodo però anche qui passando così tanto tempo ne passerà di acqua sotto i ponti sia lato inter che lato atletico che le cose potrebbero anche ribaltarsi a livello di condizione quindi ne parleremo più avanti chiudo con un messaggio ai tifosi ragazzi questo mi ero dimenticato lo dicevo durante la diretta ragazzi affrontavamo la partita contro l'avversario piuttosto di questa stagione e io dopo 15-20 minuti ho già cominciato a leggere tanti commenti troppe cose sbagliate troppi passaggi sbagliati ragazzi può succedere a questi livelli le distanze si accorciano il livello si alza il ritmo è più alto gli errori possono capitare vanno accettati e dobbiamo essere consapevoli del livello a cui stiamo giocando il risultato ancora una volta dice partita comunque controllata dominata vinta come tutte le partite del 2024 si può sempre far meglio ma meglio di così è veramente molto difficile quindi ricordiamocelo contestualizziamo sempre tutto anche all'interno delle prestazioni e ricordiamoci di sostenere questa squadra e come dicevo domenica l'unico problema di questa stagione è che purtroppo presto finirà e rivedere un Inter a questi livelli è un qualcosa di di non scontato assolutamente non scontato godiamocela di più senza stare qui adesso a fare i sommelier del doppio gol che si poteva fare eccetera eccetera mi raccomando vi aspetto nel club di passione www.passioneinter.club a parte troverete la clip con le pagelle dei tifosi